la commedia dice lui nasce da un sogno appunto lui una notte glielo avevano chiesto lui aveva risposto una notte ho sognato un cortile buio senza via d'uscita e lì è nata l'idea per il così essi vi pare a un fantasma chi è il pazzo tra di noi e lo so io dico te e tu col dito chi dichi me nasce istintivamente l'idea di un connubio di un connubio tra la poetica pirandelliana e il cinema surrealista e quindi come tutti sappiamo il cinema surrealista fonda le sue i suoi studi la sua analisi attraverso lo studio dei sogni e primo fra tutti il massimo esponente del cinema surrealista luis bunuel l'attore un po come lo sciamano di una tribù ti dà il contatto tra la tua vita e quelle degli dèi quello strano tramite che serve alla comunità per capire dove si è e dove si sta andando grazie a tutti